Giorgi mi metto così se no ridi no dalle spalle ai nostri amici lo so scusate però se no ridi ecco qui come vedi buonasera a tutti ciao a tutti che dici Giorgi che stasera diamo un benvenuto all'azienda Taccardi che è un pastificio e a breve assaggeremo i loro prodotti che sono di qualità top quindi visitate anche il sito allora stasera andiamo a fare siccome stamattina abbiamo fatto quel giochetto che fanno che non fanno la maggioranza ha voluto il cacio e pepe quindi stasera cercheremo di fare un cacio e pepe però io per non scontentare nessuno andiamo a fare un cacio e pepe di mare ok mo ci provamo dai ingredienti pepe vedete pepe così a grani a grani acqua fredda spaghetti spaghetti pecorino romano gamberetti e totanini qualità pesce top daglie ora andiamo a schiacciare il pepe e poi c'è pure una sorpresina se mi riesce daglie allora vedete il pepe a grani un po grosso e no quello fino andiamo a mettere tre messolini di acqua fredda mi raccomando del rubinetto fredda e andiamo a mettere il nostro pepe daglie nel frattempo che facciamo andiamo a scottare il nostro pesce i gamberetti e i totanini daglie così senza niente gli diamo una scottata ecco gli abbiamo dato una scottata ora adesso li sbucciamo i totanini gli diamo una tagliatini li facciamo a pezzetti eh dai giorgi famogli vedere vedete il pesce l'abbiamo tagliuzzato l'acqua e il pepe stanno quasi in ebollizione quasi in ebollizione dai giorgi dai ci buttiamo la pasta allora questa pasta qui c'ha 11 minuti di cottura io 4 minuti la tolgo e la facciamo cuocere finire di cuocere di cuocere dell'acqua col pepe giusto dai giorgi andiamo a scolare i spaghetti vedete sono crudi praticamente dai giorgi ricordiamo che nell'acqua della pasta non ci vuole il sale ragazzi eh non metteteci il sale sull'acqua della cottura della pasta eh fagliavi dei spaghetti giorgi vedete sono crudi praticamente ma adesso lasciateli sul fuoco senza girarli tanto ok dai vedete ragazzi io non l'ho mossi guardate comincia a bollere acqua cominciano a cuocersi vedete dai giorgi guarda che meraviglia guarda come se si ha formato una cremina eh bello dai dai spettacolo nel frattempo vi ricordo di andare a visitare il sito dell'azienda Taccardi vedrete che prodotti spettacolari che hanno e noi non vediamo l'ora di provarli e rimangiarli dai dai vedete ragazzi come nuotano devono rimanere così eh vedete da che meraviglia guarda eh dai 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 vedete la crema guardate come sono morbidi cremosi belli come il sole dai e ora che andiamo a fare Giorgi? impiattamento dai e ora facciamo l'impiattamento e ci andiamo a mettere il pescettino dai Giorgi abbiamo fatto una sorpresa a stamici abbiamo fatto un cezzino di pecorino guardate la crema meravigliosi ragazzi a parte meravigliosi ma poi meravigliosi grazie a tutti un abbraccio a tutti bevremo bene dai ciao